L'invito che ti faccio è percepire da un punto di vista sonoro quello che succede. Finché ci saranno rapporti umani, interazioni fra le persone, questa musica ci sarà sicuramente. Il nostro canto, il nostro fare musica sia la porta aperta per altre musiche. Possiamo anche comprendere le altre musiche, le altre culture partendo dalla nostra, come la lingua. Grazie a tutti.